Dopo la seconda guerra mondiale migliaia di italiani militari e civili furono trattenuti in Albania sotto il regime della dittatura per lavorare alla ricostruzione del paese grazie anche a un accordo col governo italiano. Molti di loro furono rimpatriati nel corso degli anni, altri fuggirono, ma gli ultimi profughi rientrarono in Italia solo negli anni 90 dopo la caduta del regime. Di questa vicenda dimenticata racconta Saverio la ruina in Italianesi in scena da stasera a domenica a Galleria Toledo nello stile lirico e civile del drammaturgo calabrese che si fa interprete con una malinconia asciutta venata di gentile ironia della storia personale di uno dei protagonisti. Sul tema del viaggio, sulla condizione dello spirito nel punto incerto fra una partenza e un approdo, si sviluppa il lavoro Terra di Mezzo, di Pina di Gennaro e Anna Coluccino, liberamente ispirato al film Nuovo Mondo di Crialese. Al teatro Elicantro può partire da giovedì in una rappresentazione dominata da atmosfere oniriche e surreali. Una madre spietata e feroce che cresce due figli assassini in una città che ha sconfitto la fame e la povertà ed è perciò assediata dall'ingordigia collettiva, senza limiti e senza morale. Aragna è la donna bestia protagonista dello studio Se solo potessi andarmene via, di Ilaria Migliaccio, da venerdì a domenica a Sala Icos, nell'interpretazione di Valentina Carbonara. E infine una riscrittura per adulti della favola di Barbablu sarà in scena sabato e domenica a Officina Teatro a Caserta. Nel lavoro di Pino Carbone, interpretato assieme a Francesca De Nicolais, la condizione mostruosa del protagonista è la metafora di una differenza dolorosa, marcata dal pregiudizio e dal rancore, che non di meno dà vita a una storia dalle inusuali sfumature poetiche.